Sono molto legata alla mia città d'origine. Mi porto dietro un bagaglio che è quello di una persona che ha vissuto vent'anni in una città che comunque è legata a un turismo balneare, ai colori brillanti accese e contrasti della stagione estiva. È partito come un progetto legato alla didattica che poi si è sviluppato in maniera molto più approfondita. Per me è stato anche un imparare a lavorare con le forme geometriche, con le forme semplici e letteralmente costruire un po' come lavorare d'architettura. L'ho trovato comunque un materiale formidabile che riesce a creare costruzioni, forme geometriche che non hanno bisogno di una struttura come il corpo per sostenersi. Grazie. Grazie.